Eccomi qua, terza parte, qua all'interno del museo del ramen di Shimi Yokohama, un posto bellissimo che vi consiglio di venire a vedere, per 300 yen di biglietto. Si può anche mangiare se volete, molto bello. Ora scendo giù e vediamo l'ultimo piano di questo bellissimo museo. Qua ci sono i banni, la massima della Coca Cola molto vecchia. Qua ci sono una marea di ristoranti, tutti in stile di una volta. Bandiera italiana? Ah, perché ce l'ha a dire, amore. Stupendo. Casa Luca Milano. Allora è qua, è un italiano. Jorge Cantze. Ciao, ciao. Ciao, ciao. rivals Molto carino Stupendo, ora dovremo mangiare qua, vediamo se è convinto il mio amico Avrei vedere i miei uomini che funzionano Funzionanti Questa roba moderna che non ci potrebbe stare Però vabbè, servono la musica Però non le mette proprietarie Questa roba moderna Questa roba moderna Ah, posso capire Guardate che bello Questa roba moderna Stupendo, ora vi faccio un'altra inquadratura L'aria non è grande, è piccolina Quindi si visita in poco tempo Stupendo Tutto qua Va bene Ho fatto tutto Spero Vi siano piaciuti questi miei video Vi ricordo la mia pagina Facebook JapanotatuParadise Il Giappone nel cuore E su YouTube mi raccomando Iscrivetevi Baccate e iscrivetevi Quindi ci vediamo con nuovi video Qui dal Giappone Ciao ciao Ciao